senza dubbio quella tagliata nell'ultimo video social da Damiano Carrara è stata la torta più dolce. Lo chef pasticcere, in questi giorni in tv con il fratello come concorrente di Pechino Express, ha condiviso con i follower un momento molto emozionante che lo vede protagonista con Lo chef pasticcere, in questi giorni in tv con il fratello come concorrente di Pechino Express, ha condiviso con i follower un momento molto emozionante. Damiano Carrara e Chiara Magenti si sono sposati a luglio 2022, dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia e a un incidente domestico capitato alla futura spo. Le nozze sono state celebrate nella loro Toscana e gli sposi non hanno esitato a condividere il gran giorno con i follower. Ci siamo conosciuti cinque anni fa, aveva raccontato Chiara Veneti Fair nel 2023, è stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera, ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di full. Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo, quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovare un post condiviso da Chef Damiano Carrara a Chiocciola Chef Damiano